ABF Edhoff Podcast. Parole di inclusione. Contro la violenza economica. Tu non sei sola. Iniziativa promossa da Associazione Bancaria Italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Collana di podcast. Parole di inclusione. Contro la violenza economica. Tu non sei sola. Violenza economica. Come posso prevenirla? La violenza maschile contro le donne ha varie manifestazioni. Può essere allo stesso tempo psicologica, verbale, fisica ed economica. Quest'ultima si verifica quando vengono messi in atto, generalmente nella sfera familiare, comportamenti che impediscono o ostacolano l'indipendenza economica e le scelte anche finanziarie, fino a controllare e a interferire nello svolgimento della vita quotidiana. Anche i soldi e il lavoro, infatti, sono strumenti di controllo se usati in modo improprio, ovvero limitando le scelte di una persona. Per prendersi cura della propria autonomia, il primo passo è avere delle conoscenze finanziarie per poter gestire le proprie risorse, qualsiasi esse siano. Questo è possibile anche grazie al supporto di esperti. È inoltre importante la costruzione di relazioni all'esterno dell'ambito familiare, che possono offrire confronto e aiuto in caso di necessità.